Il nuovo scenario politico nazionale che si è concretizzato con il giuramento del governo Conte Bis, sostenuto da PD, Leo e Movimento 5 Stelle, ha di fatto spiazzato le manovre di riposizionamento avviate da qualche mese da alcuni consiglieri regionali, in particolare il presidente del Consiglio Salvatore Micone, Udc, Armandino De Giglio, Forza Italia e Andrea Dilucente, Popolari per l'Italia, secondo i ben informati sarebbero stati in procinto di traslocare nella Lega. Dopo l'autogolo della crisi di governo voluta da Matteo Salvini, ora relegato all'opposizione insieme a Forza Italia e a Fratelli d'Italia, i tre esponenti politici molisani avrebbero bloccato le manovre in corso anche per effetto dei sondaggi negativi a discapito del consenso per il partito di Salvini. Peraltro, se il Conte Bis dovesse riuscire nell'intento di approvare una buona legge finanziaria, bloccando la clausola dell'aumento dell'IVA e tagliando le tasse per rilanciare i consumi degli italiani, per la Lega sarebbe difficile risalire la china. Non va meglio per l'esecutivo regionale guidato da Donato Toma, che ha perso di fatto tutti i rapporti con i ministri costruiti faticosamente attraverso l'impegno di Luigi Mazzuto e della Lega. Inoltre, la forte litigiosità interna alla maggioranza di centrodestra, alle prese con una verifica e con nuovi equilibri nella giunta regionale che prima o poi Donato Toma dovrà affrontare e la nuova alleanza tra le minoranze di Palazzo Daimmo, ovvero tra PD e Movimento 5 Stelle, non lasciano prevedere un prosieguo tranquillo della legislatura. Il Molise però può contare su tre dei dieci ministri targati PD e LEU che hanno stretti i collegamenti con il nostro territorio e sono Francesco Boccia, docente all'Unimol, che gestirà i rapporti con le regioni, Dario Franceschini, la cui consorte originaria di Santa Croce di Magliano, al Ministero della Cultura e del Turismo, Roberto Speranza, cresciuto insieme a Danilo Leva e suo amico federissimo al Ministero della Salute e potrebbe dare una mano al collassato sistema sanitario regionale. Quanto alla nomina dei viceministri e sottosegretari, al momento appare improbabile un impegno diretto dei cinque parlamentari molisani o di qualche esponente del PD locale. L'ultimo sottosegretario risale all'epoca di Florindo Daimmo e da allora nessun esponente politico molisano è stato chiamato a far parte della delegazione di governo. Ci sarà un perché?